Ebbene, Pompidante quando canta Watching Dream and Float sta riflettendo sulla sua funzione di artista. Vuole cambiare modulo. In qualche modo ci sta comunicando che un artista non può produrre di capolavori ogni 5 minuti. Like a Rolling Stones non è un pezzo che nasce all'improvviso, ma è un percorso musicale on the road che va studiato. Mi scusi e spero se si chiede a saporare un pezzo, o amor che ha portato a me il forno, o amor che ha portato a me il forno, o amor che ha portato a me il forno. E' un'altra cosa dedicata a Bob Dylan e approfondiamo la figura di questo gigante della cultura mondiale e per una sollecitazione alla nostra comunicazione scolastica, ma soprattutto come enfasi da trasferire ai nostri allievi del liceo musicale. Quest'anno saranno alla maturità per il primo anno, quindi vogliamo in quest'ottica anche dare la possibilità di approfondire figure di primo piano del mondo musicale. Quest'anno avremo anche le celebrazioni per il 75esimo anno di nascita del liceo classico. Liceo classico che ormai sta dando enormi soddisfazioni, ma adesso si aggiungono le altre varie facce della nostra istituzione e non ultima appunto quella del liceo musicale. Quindi sono preziose e fondamentali queste sollecitazioni e saremo così, spero, sulla linea di questi grandi testimoni della cultura mondiale e moderna propositori di un percorso che i nostri giovani possano seguire. Grazie per la visione!